Buongiorno a tutti cari amici elettronauti, benvenuti in una nuova puntata delle news green della settimana Buongiornissimo direi, strano notizie interessanti eh ragazzi, cominciamo? Siamo carichi Siamo carichi, però prima iscrivetevi al canale, accedete la campanellina mi raccomando e non dimenticate di guardare ogni mercoledì il nostro podcast Una sfera che cattura il vento da ogni direzione e non è fantascienza Questa turbina eolica sferica progettato per superare i limiti delle tradizionali pali eoliche Il principe è semplice, grazie alla forma sferica l'impianto è in grado di catturare e convertire in energia il vento proveniente da qualunque direzione senza dover orientare meccanicamente la struttura Questo tipo di soluzione si rivolge soprattutto a contesti urbani e residenziali dove gli spazi ovviamente sono limitati e i venti cambiano spesso direzione Compatta e silenziosa, la turbina è pensata per installazione sui tetti anche in combinazione con impianti fotovoltaici L'efficienza non è stata ancora verificata su larga scala, ma il potenziare chiaramente è evidente e se le promesse saranno mantenute si tratterà di un passo importante verso una decentralizzazione della produzione energetica e poi come detto, quando non c'è il sole, magari c'è il vento, perché non sfruttarlo, no? E ora andiamo nel cuore del mare del nord, il Fraunhofer Institute sta sperimentando una tecnologia sottomarina capace di trasformare le correnti marine in energia elettrica continua e prevedibile Si chiama IDRA e rappresenta una delle soluzioni più promettenti per integrare le fonti rinnovabili intermittenti come ad esempio abbiamo detto prima il solare e l'eolico perché se il solare sappiamo che di notte non c'è e l'eolico se non c'è vento Il sistema si basa su turbine installate sul fondale marino alimentate dal moto costante delle correnti oceaniche Il grado di vantaggio è una produzione energetica stabile che può contribuire a bilanciare la rete anche quando appunto il sole non splende e il vento non soffia L'infrastruttura è progettata per essere modulare facilitando quindi l'espansione e la manutenzione in ambienti marini complessi IDRA infatti riesce a monitorare in tempo reale condizioni operative ottimizzando la produzione Come sempre però Marta c'è da tenere in considerazione anche che quella roba qua va nel mare e quindi insomma con un'altissima concentrazione salina diciamo che i materiali vengono molto attaccati e non solo anche diciamo l'ecosistema marino diciamo che va un po' ad aggrapparsi a tutte queste cose quindi ad esempio molluschi eccetera eccetera andrebbero ad intaccare un pochino la sua integrità Certo sul lungo termine Esatto ma per questo insomma queste aziende stanno comunque appunto studiando quali siano i materiali migliori per andare a evitare un degrado troppo veloce e anche andare ad utilizzare dei materiali che invece siano favorevoli ad una nuova costruzione magari non so di una piccola barriera collallina proprio in quel punto perché sappiamo che esistono tecnologie oggi che permettono anche di andare a ricostruire le barriere collalline andando ad inserire dei materiali particolari all'interno magari di zone che sono sprovviste di barriera collallina a causa appunto dell'inquinamento eccetera eccetera quindi veramente molto molto interessante Ma ora parliamo di una combinazione strategica tra fotovoltaico tradizionale e tecnologia in cloud che promette di rafforzare l'indipendenza energetica di abitazioni e imprese La proposta di Green Energy è azienda Umbra che ha messo a punto un sistema ibrido capace di ottimizzare la produzione solare grazie all'intelligenza artificiale e alla gestione intelligente dei flussi energetici La novità è nell'integrazione tra i pannelli solari classici questa piattaforma cloud proprietaria che analizza dati in tempo reale e prevede i consumi regolando l'accumulo e la distribuzione dell'energia In questo modo l'autoconsumo viene massimizzato e la dipendenza dalla rete si riduce drasticamente con benefici tangibili anche in bolletta Il sistema si adatta sia ad edifici residenziali che industriali con soluzioni su misura e scalabili un approccio interessante per chi cerca efficienza energetica senza dover stravolgere l'infrastruttura esistente e inoltre la gestione smart permette di interfacciarsi con le comunità energetiche e sistemi di scambio sul posto anche aprendo nuove opportunità sul fronte economico Ne parleremo nel podcast della settimana prossima perché sostanzialmente anche voi con il vostro impianto solare se andate ad installare un piccolo dispositivo potrebbe questo dispositivo andare a far partire per esempio la ricarica della vostra auto elettrica quando sa che c'è abbastanza energia da poter utilizzare nella batteria di accumulo magari sapendo quanto sole il giorno dopo potrebbe essere accumulato proprio in quella batteria quindi mentre noi normalmente quando tocchiamo l'auto di sera andiamo ad utilizzare tutta l'energia che c'è all'interno della batteria e poi il giorno dopo chissà se andiamo a riempirla e magari appunto quel giorno dopo non c'è il sole e dobbiamo fare la lavatrice, la lavastoviglie eccetera eccetera beh andremmo ad utilizzare l'energia della rete ma in questo caso il sistema connettendosi ovviamente con dei diciamo servizi anche gratuiti che vi permettono di sapere quanto sole prenderà la vostra casa il giorno dopo con un sistema intelligente che va a dire guarda macchina sì prendi l'energia dalla batteria prendi 10 kilowattora dalla batteria perché poi domani alle 10 del mattino questi 10 kilowattora li avrai già riaccumulati molto interessante no? A Serravalle U5 Filters Hydrogen ramo dell'omonimo gruppo attivo nel settore della mobilità sostenibile ha inaugurato ufficialmente la produzione industriale di membrane per cella combustibile a idrogeno un passo che fa notizia non tanto per l'annuncio in sé ma per il fatto che l'impianto in realtà è già operativo le membrane in questione sono una componente chiave sottilissime pellicole in polimero conduttivo fondamentali per il funzionamento delle celle a membrana a scambio protonico la loro funzione è quella di separare i gas se permettere il passaggio dei protoni dando così il via alla generazione di energia elettrica l'azienda punta a diventare protagonista nel settore europeo con un processo produttivo già attivo su tre linee e un occhio ben puntato sui mercati automotive e heavy duty ma c'è di più in arrivo anche una quarta linea destinata alla produzione in scala pilota di elettrodi catalizzati e ora andiamo in Puglia nascerà presto un hub per l'intelligenza artificiale alimentato interamente da fonti rinnovabili l'infrastruttura prevede l'impiego di impianti fotovoltaici e sistemi di raffreddamento passivo a basso impatto ambientale il centro integrerà soluzioni di edge computing e data center ad alta efficienza con l'obiettivo di ridurre del 90% l'impronta carbonica rispetto a centri analoghi parliamo adesso di un altro argomento in particolare di un reattore nucleare che non solo produce energia ma ricicla le scorie radioattive e questo è l'obiettivo del Thorizon startup holandese che punta a rivoluzionare il panorama del nucleare con un approccio circolare il cuore del progetto è un reattore a sali fusi capace di utilizzare come combustibile gli attuali rifiuti radioattivi delle centrali tradizionali il sistema si basa su una combinazione di torio e scorie pretrattate che vengono disciolte in una miscela di sali liquidi ad alta temperatura questa soluzione consente reazioni più sicure, compressioni più basse e una produzione di rifiuti residui molto inferiore rispetto ai reattori convenzionali quindi un modo per affrontare due problemi in uno la gestione delle scorie e la generazione di energia pulita Thorizon sta lavorando a un prototipo da 10 MW da realizzare nei Paesi Bassi entro il 2030 il progetto ha già raccolto l'interesse dei partner industriali come Orano e NRG a conferma della crescente attenzione verso tecnologie nucleari di nuova generazione in un momento storico in cui l'energia deve essere pulita ma anche costante e sicura soluzioni come questa potrebbero rappresentare un tassello chiave per un mix energetico più resiliente e sostenibile voi cosa ne pensate? siete pro o contro nucleare? a Milano si terrà Net Zero 2025 un evento dedicato alla decarbonizzazione industriale europea il focus sarà sulle soluzioni per ridurre emissioni in acciaierie, cementifici e raffinerie con tecnologie come CCS, elettrolisi e calore da fonti rinnovabili sono previsti incontri tra industria, accademia, policy maker per accelerare l'adozione di standard green in ambito produttivo direi che non male sì ci voleva ma lo sapete che nel Mediterraneo ogni anno finiscono in mare circa 600.000 tonnellate di idrocarburi la maggior parte di questi avviene lungo rotte commerciali ben precise Sicilia, Malta, Egitto e Turchia sono le aree più colpite in pratica dove c'è traffico marittimo c'è anche un inquinamento direi cronico secondo un recente studio pubblicato su Science of the Total Environment e basato su dati satellitari raccolti nell'arco di due decenni la fonte principale non sono le piattaforme offshore ma le imbarcazioni stesse le acque di sentina, quindi quelle sporche di carburante che si accumulano nelle stive dovrebbero essere trattate e smaltite in porto e invece spesso vengono scaricate direttamente in mare il paradosso? Le tecnologie per evitarlo esistono i regolamenti internazionali pure ma i controlli restano deboli e le sanzioni poco dissuasive intanto il Mediterraneo continua ad inquinarsi sempre di più con grandi conseguenze per la fauna marina e ovviamente anche per noi il problema qui ragazzi è che non vedendo un problema imminente ma sul lungo periodo tutti se ne fottono però a forza di dai e dai e dai e dai tocchiamoci i maroni eh? Comunque l'Italia rafforza il suo impegno in Africa per promuovere l'accesso all'energia pulita i progetti includono microgrid solari, reti decentralizzate e impianti olici off grid le iniziative sono supportate da Cassa Depositi e Prestiti Enea e Startup Italiane l'obiettivo è garantire elettrificazione sostenibile in aree rurali migliorando salute e istruzione locali direi che sono sempre dei bellissimi progetti portarli a termine non è assolutamente facile e quindi grazie a queste diciamo aziende che si mettono insieme e cercano di fare qualcosa perché altrimenti tutto il mondo va in Mona esatto e ciao entro il 2035 la capitale tedesca vuole installare 4.400 MW di potenza di fotovoltaico urbano con l'obiettivo di coprire il 25% del fabbisogno elettrico cittadino il progetto si chiama Solar City e prevede un impianto strutturale che coinvolge amministrazioni, cittadini, imprese e il mondo della ricerca il traguardo intermedio è fissato per il 2030 di 2.000 MW di potenza pensate che al 2023 però Berlino era ancora ferma a 700 MW di potenza un ritardo evidente ma non irrecuperabile a batto che vengano rimossi gli ostacoli che ancora rallentano la diffusione del fotovoltaico sui tetti urbani ovvero la burocrazia, i vincoli tecnici, la mancanza di personale qualificato insomma, solita storia una spinta potrebbe arrivare dagli impianti di autoconsumo collettivo un modello che in Germania sta iniziando a decollare grazie a nuove semplificazioni al centro resta comunque l'approccio integrato la transizione infatti non si fa solo con qualche pannello buttato così a caso ma con un piano urbano coerente mobilità, governance energetica locale quindi se Berlino vuole diventare una solar city dovrà farlo con metodo e con credezza e magari anche con un po' di coraggio quello che serve è quando si decide di cambiare davvero è qui bello perché un team di geologi ha scoperto un'enorme riserva di idrogeno biotico nel sottosuolo africano stimata sufficiente per 170.000 anni di consumo globale vedrai che Trump porterà la democrazia anche in Africa adesso il gas è contenuto in rocce ferrose profonde e può essere estratto senza combustione i test preliminari indicano concentrazione del 15% naturali rendendolo promettente per l'uso diretto in fuel cell e processi industriali apriamo elettronauti acciaieria in Africa fai così alcuni fondi del PNRR che erano inizialmente destinati alla costruzione di nuove colonnine che sembra quasi nessuno voglia fare comunque sono stati reindirizzati per l'acquisto di auto elettriche c'è finalmente un meccanismo più calibrato infatti il governo ha definito nuovi bonus che premiano l'acquisto di veicoli a basse o zero emissioni con importi che possono arrivare fino a 11.000 euro ma solo ovviamente per determinate condizioni l'incentivo massimo è riservato per esempio a chi ha un ISE sotto i 30.000 euro o rottama un'auto fino a Euro 2 e sceglie un'elettrica dal prezzo entro i 35.000 euro più IVA ma i bonus scendono progressivamente per chi ha un ISE più alto o rottama auto meno vecchie presenti ovviamente anche contributi per ibride plug-in eccetera eccetera in misura ridotta ma è interessante anche la novità del bonus mobilità infatti chi decide di rottamare senza acquistare un'altra auto può ricevere fino a 2.000 euro da usare in trasporti pubblici car sharing, micromobilità e però appunto fermi tutti cioè non sappiamo ancora date, cose... però sembra abbastanza vero e ora andiamo nel comune di Chiesone scusatemi se magari non ho detto bene magari si dice Chiesone è stato attivato un nuovo impianto a biogas da 999 kilowatt alimentato con reflui agricoli e biomasse locali l'impianto è collegato a una rete di teleriscaldamento e può soddisfare il fabbisogno energetico di circa 1.500 famiglie la gestione avviene tramite sistema automatizzato integrato con piattaforma di monitoraggio ambientale comunque ragazzi grazie mille per essere arrivati fino a qui mi raccomando iscrivetevi al canale accedete la campanellina andate a vedere il nostro podcast che è super divertente soprattutto l'ultima puntata dove sono stato un po' lo... eh grazie ragazzi stay green, stay clean no, no, no drive green, stay clean per un futuro più sostenibile che palle questa cosa la facevo tutte le volte io ancora non mi ricordo vabbè comunque niente drive green, stay clean per un futuro più sostenibile ciao ah e Marta non è né mia sorella né la mia ragazza perché vedo che nei commenti davvero sono su cugina non c'è cosa più divina che sc***si la cugina chissà chi sei chissà chi sarai in realtà non siamo parenti ma siamo amici in una band insieme abbiamo un duo lei suona la chitarra io devo suonare il piano però ho cambiato canto grazie 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 grazie